Io nel 1947 abitavo Gualtieri, al mio paese, in provincia di Reggio Emilia, e con un camion andammo a vedere l'arena di Verona. Io avevo 19 anni, che c'era questa gioconda, mi pare che fosse. E in scena apparve questo personaggio, io non capivo niente di voce, lo confesso, mio padre era un gran musicologo, infatti mi portava sempre a teatro, a Reggio, a Parma, soprattutto a Parma, e così, ma io ancora oggi non so bene qual è il Do e qual è il Re. Vado a sensazioni. E rimasi sconvolto perché già l'arena di Verona in sé, poi quando questo personaggio, là così lontano, finì di cantare, attorno a me successe come la guerra, urla, pazzia, applausi, urla, 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 era questa signora che cantava. Poi dopo io non ho mai più saputo niente, nel 1951 ero a Firenze a casa dei miei amici, e alle mie amici dissero, sai che c'è questa grande cantante, questa calla che fa la traviata, è una cosa, e lì veramente mi incominciai a innamorare di lei perché per la prima volta in teatro, piansi, mi sconvolsi, mi sentii male, lei allora era cento e tanti chili, aveva un ventaglio terribile in mano, quello mi ricordo mai era sublime. Soprattutto lei desiderava attorno a sé e per sé il meglio, qualunque sacrificio costasse, provare dieci ore, mettersi i busti, pettinarsi in su, pettinarsi in giù, io non gli ho mai visto fare un capriccio, mai. Era una donna, non so, cosa posso dire, come mia madre, piaceva una bella casa, i fiori in casa, adorava i cani, ha adorato le sue persone che ha avuto con lei per anni e anni e anni, infatti sono le uniche, che la rispettano più di tutti perché non parlano, perché l'umanità della calla è un'umanità molto semplice. La prima volta che le hanno frate i costumi di traviata, che avveniva questo fenomeno, che a una cantante gli si proponeva di mettere un busto steccato 1880, con tutta la gentilezza e la delicatezza che aveva la De Nobili e la signorilità, ma però la testardaggine e il rigore di Visconti, lei se lo mise e disse stringete pure, tutti eravamo così, stringete pure, un momento è che io prendo i fiatti, lei prendeva i fiatti dalla parte, diciamo, centrale, disse ecco qui appena un momento, la vita la potete stringere quando vuole, va bene, mettiamo il vestito, più scollato, più accollato, i guanti più lunghi, più corti e quello è finito. È stato un genio di come ha voluto essere seppellita, perché lei va in giro per il mare dell'Egeo e sente che la calla è lì dentro, quella è la genialità, di non volere che ci sia nessun documento della sua morte, pensi lei tutti quelli che andrebbero a piangere, le inutili cantanti che si potrebbero fotografare, pensi in buon gusto, non è facile rinunciare a un monumento, e ce ne avrebbero avuti tanti, c'è il mare, chi la vuole va lì, si butta dentro e le fra le braccia della canna.